Se volete acquistare crediti o account con FIFA Points a prezzi davvero bassi potete andare su golda.com e con il codice Justiz avrete un piccolo sconto, link in descrizione Buonapri ragazzi, qui è Justiz e oggi siamo tornati finalmente con il pack opening, il pack opening con la I maiuscola Per gli ultimi toss degli Esports, finalmente ve l'ho porto, non ci sono purtroppo i pacchetti Lighting Rounds, quindi quelli limitati nel mondo Ma abbiamo 10 pacchetti da 100.000 crediti, ora sarebbe troppo banale aprirli così, quindi faremo il pacchetto da 1.000.000 di crediti Aprendo tutti questi pacchetti e conservando tutto nel club, mi accerto di non aver nulla nel club, perfetto, non ho giocatori In modo che poi tutto quello che vedremo nel club sarà trovato, mi raccomando lasciatemi un mi piace se volete anche voi aprire questi pacchetti Passate da golda con il link in descrizione, andiamo col primo, portatemi fortuna perché io voglio aprire questi 10 pacchetti E arrivare alla fine, andare nel club e trovare Ronaldo99, voglio questo ma ovviamente non accadrà Andiamo col primo pacchetto, aspettate, ok, io mi giro, aspetto che si apra qualche secondo Facciamo L2 su X Ok, sono un coglione, sono un testa di minchia, allora innanzitutto mi devo coprire quale legato se non vedo tale e quale Devo, devo, devo stare attento con i tasti, vabbè il primo pacchetto l'ho visto, eh poco male, poco male Secondo pacchetto Terzo pacchetto Andiamo a vedere, speriamo ovviamente di trovare qualcuno Mi giro, spero si sia aperto Aspettiamo qualche secondo 3, 2, 1, ok, L2 su X Altro pacchetto, ne me ne mancano ancora 7, quindi la possibilità c'è di trovare se gli A ovviamente ci ama Altrimenti no Ok, aspettiamo qualche secondo come al solito Sembra un ritardato a fare sta cosa Vabbè, L2 su X Ok, conservato anche questo Piano piano stiamo finendo i pacchetti, ne mancano 6 La possibilità c'è, signori, la possibilità c'è di trovare i giocatori Poi, ovviamente, gli Esports ci odia, quindi sicuramente troveremo paletta come miglior giocatore L2 su X Ok Pensate a trovare Ronaldo doppione, vuol dire che l'abbiamo già Cioè, due Ronaldi sarebbe tipo il top, ovviamente Ovviamente Allora, aspettiamo che si apra Aspetto 4 secondi 3, 2, 1 Perfetto Se non ha buggato, in teoria Vai, L2 su X Poi in questo momento da me sta diluviando Quindi spero non salti la corrente, perché altrimenti addio proprio tutto Va bene, 4 pacchetti rimangono, signori, andiamo Con il quinto ultimo, oddio, l'ho visto per pochissimo, non l'ho visto Per pochissimo non l'ho visto, ve lo giuro 3, 2, 1 L2 su X Ok Ok Ma un tozzo doppione? No, eh Non ce lo fanno trovare Giusto per capire un po' chi abbiamo già trovato Vabbè Sicuramente non avremmo trovato nessuno Ne sono veramente certo Perché Solo 10 pacchetti Cioè, solo Beh, poi non è che solo Si dovrebbe essere aperto L2 su X Ok Non è che solo, però Per questi Tots Devi avere un culo assurdo Abnorme Cosa che io in questo momento A quanto pare non ho Ce l'ho avuto all'inizio dei Tots Per pochissimo non ho visto Meno male E quindi adesso non ce l'ho più 3, 2, 1 Vai L2 su X Ok Ok Pianici doppione Ma non credo valga qualcosa Nel dubbio E Navas che non l'hanno rimesso ovviamente Ultimo pacchetto ragazzi Ultimo pacchetto We got this We got fucking this Ultimo Vediamo un po' Cioè non vediamo un po' Non vediamo un po' 4, 3, 2, 1 Spero si sia aperto L2 su X Ok Perfetto Allora Andiamo nel nostro club signori Andiamo nel club E vediamo un po' Io non voglio guardare neanche sopra Quello che mi dici 3, 2, 1 Vai No vabbè Io Chiudo qui il video Ciao No vabbè